Ha preso il via oggi pomeriggio la quattordicesima edizione della mostra internazionale di opere realizzate con materiali di scarto e rifiuti Riarteco. Sentiamo le parole dell'organizzatore della mostra, Marco Pasqualin. Inizia Riarteco, arte per sensibilizzare, sensibilizzare su un tema importante che è quello del riciclo. Parte da oggi, come si suturerà la mostra? Ma tutti i giorni, dalle 15 alle 18, al Padiglione della Madonna, con ingresso da lato Fontana a San Prospero, ingresso libero, chiaramente daremo il catalogo a tutti. Sono 47 artisti da tutta Italia e ci tengo a dire tutti i nomi, ma sono troppi, spero che voi possiate passare. È una grande emozione portare sempre in giro questa mostra. Varie tappe, itinerante, partita dalla Sicilia, passata dal Lazio, siamo in Toscana, poi andrà a Livorno e poi Genova, in Liguria. E che dire, è un sveglio di svegliare, cercare sempre di muovere attraverso l'arte le coscienze per trovare una soluzione a questi rifiuti. L'arte ci può dare una mano a trovare la soluzione. Ok. 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 Grazie a tutti.